Signore e signori, Superbas! Alla Dio mi ha cacciato dopo pochi mesi perché ho metto l'antrace dentro i cioccoli, ma mi fu vendicato tutte le mattine pisciando nei bicchieri e nelle mine frine. Sarebbe un ben sogno, tu pensa che gioia se Niccol Minetti facesse solo l'igienista dentale. Ma lo so non è che bui senza camperos, è come un testimone di Geova senza citofono. Siete tutti bellissimi, tranne te. Ammirate le forme e i colori di questo fantastico gioiello tecnologico in questa nuova versione totalmente rinnovata.